Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti, stavolta non parto più ragazzi, ve lo giuro il risultato è stato uno dei peggiori, due settimane di partenza, due settimane di ribasso e adesso vediamo se funziona anche il contrario speriamo, speriamo oggi non ci perdiamo l'occasione per rivederci live nonostante sono vittima di più o meno un migliaio di ore senza sonno visto il jet lag visto che sono ritornato oggi stesso e in sostanza ho saltato la notte tra ieri e oggi perché la partenza era ieri e quindi insomma sono arrivato oggi un delirio cose folli cose folli ma ma non molliamo ho raccolto un po' di notizie ho raccolto un po' di cose interessanti un po' di analisi da condividere e poi soprattutto voglio sentire da voi come vanno le cose quindi mi raccomando fatevi vedere belli carichi fatevi vedere belli sul pezzo perché stavolta siete più voi che dovete aggiornare me io in cambio vi aggiornerò un po' su quello che è successo a Miami visto che mi avete chiesto in tanti ma dai facci un po' di highlights dici un po' di chicche che sono uscite fuori qualcosa è uscito eh vi dico la verità la mia il mio bilancio è stato molto positivo perché vabbè al di là della situazione in sé dove insomma è sempre bello no vedere di far che sia parte di qualcosa dove un sacco di persone lavorano innovano cercano di fare e insomma è bello pensare che anche noi siamo parte di tutto questo e viene voglia di guardare meno il grafico del prezzo quando si si vede il reale sviluppo che c'è dietro il reale impegno e gli obiettivi che che poi il futuro che che ci si prefigge poi per il futuro al di là di questo vi vi mostrerò ho trovato dove dove ci sono le repliche poi degli speech e ve ne consiglio due o tre da guardare assolutamente visto che poi sono anche disponibili su youtube proprio per farsi un'idea anche di ciò che è stato detto e di quelli che sono stati i topic principali discursi dopodiché andiamo a dare un'occhiata ai grafici come al solito visto che non sono particolarmente belli in questi giorni ma c'è un ma ragazzi guardate bene quello che sta accadendo guardate bene quel canalino rialzista sì ho detto proprio rialzista nel quale ci troviamo lo so cosa direte direte che sono sempre bullish anche se dovesse andare a 10 cap io sarei bullish ma un po' non lo so forse sono un po' biased anche da quello che ho visto che ho sentito a Miami da quello che è il mio parere personale sul futuro delle crypto ma anche fermandoci soltanto esclusivamente al grafico per il momento guardate bene abbiamo questo canale rialzista che al momento tiene higher highs higher lows quindi qualcuno l'ha definito una bear flag ma avete detto ma non è che potrebbe essere appunto quel canalino rialzista in una fase invece a direzionalità ribassista che di conseguenza poi viene rotto a ribasso di solito quella è la figura che si si presenta durante i downtrend quando si ha un piccolo storno rialzista potrebbe essere potrebbe assolutamente essere però questo non è detto fin tanto che il breakdown non avviene quindi dipende sempre tutto da dove si muovono i volumi da dove c'è squilibrio se lato domanda o lato offerta per il momento durante quest'ultima leg down guardate ops volevo fare un disegnino guardate il movimento e guardate i volumi i volumi sono rimasti piatti barra in calo quindi abbiamo veramente poca partecipazione lato volumi non che durante la fase rialzista ne avessimo di più ma il declino dei volumi che stiamo vedendo ci suggerisce quanto meno che presto dovremmo vedere un movimento un po più concitato perché quando c'è contrazione poi ci dovrebbe essere espansione e quindi potremmo vedere se tale movimento sarà a rialzo oppure a ribasso e questo probabilmente definirà quello che è il il sentiment del del movimento successivo per il momento ve l'ho detto higher lows higher highs ce la posso fare ragazzi oggi dovete avere pietà di me perché le ore di sonno sono veramente poche e pertanto finché rimane questa configurazione ragazzi va tutto bene il problema è che adesso stiamo andando ad attaccare quello che è purtroppo l'ultimo supporto che ci è rimasto l'ultimo supporto sul daily perché sul settimanale allora la settimana scorsa l'abbiamo chiusa salvandoci in corner possiamo dire questa sta aprendo male perché abbiamo perso il supporto settimanale che si trova qui a 42.500 e pertanto se ci chiudiamo sotto è un'invalidazione vedete di questa di questo breakout di questo movimento e quindi non benissimo sarebbe non sarebbe sicuramente una cosa positiva ovvio è che rimane il discorso dell'osservare i low perché se dovessimo perdere quel livello ma fare comunque un higher low si avremmo perso il breakout e su quello non ci piove quindi tutto ciò che concerne quel setup che avevamo ipotizzato vi ricordate sul retest e invalidazione in caso di chiusura sotto alla candela di breakout sarebbe verificato quindi nel sarebbe la sua versione bearish tuttavia rimane come ultima ancora di salvezza per vedere per avere una visione rialzista il discorso dei low crescenti se facciamo anche dei low decrescenti chiaramente non c'è più motivo per per pensare di poter vedere un setup con stampo rialzista ecco sul daily questo si vede con un po più di velocità perché guardate abbiamo un supporto in più che il nostro solito cluster a 40.000 questo cluster a 40.000 lo stiamo testando proprio ora è il famigerato cluster che abbiamo sempre fake breakato possiamo dire guardate pam assorbito pam assorbito una volta due volte e poi la terza sembrava quella buona con retest e ripartenza ma poi tutto questo movimento è stato assorbito poco dopo e al momento stiamo ritornando quindi proprio a toccare questo livello c'è anche una confluenza importantissima su questo livello perché se ci fate caso abbiamo il cluster più la trend line quindi vedete perché questo livello i 40.000 al momento ha un'importanza veramente notevole se lo perdiamo immaginatevi di chiudere ad esempio qua andiamo a rompere innanzitutto il supporto statico in zona 40.000 in secondo luogo andiamo a perdere anche il trend la pendenza del trend quindi è un doppio indebolimento e sicuramente aumenta di netto le probabilità di andare a chiudere la settimana sotto ai 42 43 quindi invalidare anche il costrutto settimanale e questo ovviamente sposta molto la lancetta di nuovo a favore dei bears se prima dopo la rottura dopo questo high in particolare che aveva recuperato un po di livelli potevamo sperare di avere un possibile appunto setup rialzista lo avevamo anche visto se andiamo a perdere quei quelle specifiche quei trigger no quelle specifiche cose che hanno una una rafforzato la visione di setup rialzista chiaramente ritorniamo indietro è come fare un passo indietro e ritornare a cos'era una se no due settimane fa a quando tutto ciò non era nemmeno avvenuto quindi adesso attenzione a uno il la zona dei 40.000 dove si vanno dovevano a concluire cluster di supporto e uptrend line due attenzione ai low perché se comunque riusciamo a mantenere un higher low se poi c'è conferma con l'hier high perché purtroppo questo assorbimento non è che si può far finta di niente dire vabbè dai c'è l'hier low non importa anche se abbiamo assorbito tutto rimaniamo bullish purtroppo no è difficile adesso essere bullish però se facciamo un higher low e poi andiamo verso l'hier high c'è di nuovo questa continuazione del canale rialzista sarebbe strano come come pattern perché insomma volumi così calanti higher highs higher lows con volumi appunto in contrazione non è che ha proprio il massimo no come come partecipazione della domanda anzi sembrerebbe quasi un ultimo disperato tentativo di recuperare qualcosa prima del dump finale però quelle sono le possibili costruzioni appunto di sulla price action da tenere sotto controllo altrimenti la rimane dominante il trend principale il trend principale al momento è questo sul medio per breve medio periodo diciamo perché sul macro le cose non è che sono cambiate abbiamo comunque questo low qua per ora un higher low e qui abbiamo high e leggermente higher high quindi possiamo dire laterale no il il macro è ancora tendente al laterale abbiamo questo mega range che va tra i 30 e i 60 mila io ve lo dico con tutta sincerità rimango con il mio così long speculativo aperto come sempre non sono consigli finanziari ragionateci e fate la volta seguite la vostra strategia implementate dei trade che siano consoni alla vostra strategia ma il famigerato long che avevo aperto al tempo proprio in questa zona che mi era sfuggito per un pelo durante questo flash dump io lo lascio lì perché non si sa mai che ci andiamo a riparare no il flash dump di solito per come atto terminale dell'offerta spesso si verifica cioè quando c'è una situazione fortemente ribassista quindi dove è dominata dallo sconforto no all'esatto contrario dell'euforia immaginatevi come vi sentivate a marzo febbraio quei periodi di euforia folle shitcoin millepere cose del genere o anche a fine anno 2021 se vi ricordate immaginate l'esatto opposto no dove nessuno vede più speranza tutti dicono no siamo in bear market ormai il 2022 23 saranno bearish eccetera il mercato cosa fa dump ancora giusto per darvi quell'ultima conferma di cui aveva bisogno e quella è la cosiddetta capitolazione quindi attenzione a quello specifico segnale che è difficile da dire cioè come faccio a trovarlo è difficile da standardizzare in un in uno due o tre configurazioni ma di solito si ha a parte questo sentimento estremamente negativo durante una fase di price action fortemente ribassista una fase apicale diciamo dove c'è una concentrazione di volumi accompagnata da un'ultima fortissima svendita che poi dovrebbe venire assorbita quello è l'assorbimento di solito è rapido perché non dà tempo a chi ha panic sellato di redimersi no gli compra e poi fa partire l'assorbimento è quella è la fase di capitolazione occhi puntati perché quando sembra che peggio di così non possa andare arriva la batosta finale arriva la capitolazione e lì poi dove tutti appunto dicono basta non ce la faccio più vendo anch'io è lì che poi di solito si riparte purtroppo ripeto è difficile dire accadrà qui questo è il segnale quello il segnale noi seguiamo il mercato giorno dopo giorno io provo con quella posizione long speculativa che di cui vi ho parlato poco fa a cercare di grattare qualcosa in anticipo proprio perché rimane comunque questa l'area di supporto maggiore l'area intorno ai 30.000 lo sappiamo bene l'importanza che ha e perché poi di fatto se l'andiamo a perdere cioè questo è il costrutto macroscopico quindi noi adesso andiamo a vedere sempre da vicino diciamo sì la bear flag il supportino alla resistenza ma macroscopicamente facendo un passo indietro il costrutto vero che stiamo seguendo è questo questa questo grandissimo range laterale che se viene perso a ribasso si salvi veramente chi può e lì ovviamente si prendono provvedimenti si iniziano a incrementare gli short di copertura e si vanno a cercare posizioni esattamente opposte io adesso non cerco lo short personalmente speculativo ne di copertura proprio perché il macro è comunque questo mega range all'apice di un per 10 di leg up quindi non è il mio scenario ideale sul quale cercare dei setup short questo è quanto poi allora fatemi controllare ancora un po di cosine soprattutto sulla total market cap e sulle altcoin che ci sono utili per andare a completare il quadro serve un po d'acqua non è ancora ghiacciata per quella ghiacciata aspettiamo mercoledì perché dobbiamo rientrare step by step allora qui abbiamo detto tutto quindi attenzione a questo livello attenzione al canale rialzista se andiamo a chiudere la settimana qua sotto non benissimo ok total market cap conferma abbastanza tutto ciò perché se noi andiamo a vedere a parte il bagno di sangue delle altcoin vedete che ahimè laddove avevamo recuperato guardiamo anche qua il settimanale che è più cristallino secondo me da questo punto di vista vedete avevamo recuperato i 2 trillion ma l'abbiamo immediatamente persi vedete la candela della settimana scorsa in questo caso ha già chiuso in invalidazione e questa la sta confermando quindi qui abbiamo una configurazione leggermente diversa rispetto a bitcoin perché abbiamo un'area di supporto con delle shadow quindi non degli higher low ma un'area di supporto orizzontale e invece a salire abbiamo creato adesso un higher high quindi vediamo se dovessimo fare un higher low e poi andare di nuovo a cercare delle una situazione rialzista un costruttore rialzista sarebbe una cosa se invece torniamo qua giù e rimaniamo qua questo viene completamente cancellato come anomalia e quindi non aggiunge nulla in sostanza la situazione è fortemente dubbia fortemente indecisa spaventata cioè si percepisce paura perché i volumi sono una cosa veramente minima volumi così bassi non si vedevano da tempo guardate anche sullo spot le candele settimanali sono con volumi decrescenti le candele giornaliere ieri e l'altro ieri cioè abbiamo volumi ridicoli volumi così bassi si sono visti veramente poche volte se ci fate caso e stanno a indicare proprio una scarsa partecipazione cioè non ci sono volumi né in acquisto né in vendita c'è più titubanza e stare a guardare probabilmente la prima botta magari sul settimanale perché sul giornaliero potrebbe essere una liquidazione di massa ma sul settimanale la prima botta di volumi ci potrebbe dare un'idea di dove verso dove si muovono realmente gli acquisti o le vendite cioè è chi è dei due che predomina in un ambiente di volumi perché fin tanto che i volumi sono questi anche se abbiamo un movimento rialzista ribassista lascia sempre quel non so che di dubbio no ok quindi questo è quanto riguarda il mercato e adesso 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 andiamo a vedere dunque due altcoin direi di no perché come potete immaginare non è che si stiano comportando benissimo ma dunque la dominance in realtà è ancora non è ancora a favore di bitcoin del tutto cioè questo è soltanto un colpo di reni devo darci un'occhiata allora diamo un'occhiata ethereum ethereum bitcoin ma in realtà non è male ethereum bitcoin perché non ha nemmeno perso questo low a 0,073 e dunque qui abbiamo una sorta di range quindi range dopo il breakout no vi dirò di più ethereum mi piace mi continua piacere perché sembra intenzionato contro bitcoin ovviamente a attaccare le prossime resistenze macroscopicamente sul weekly c'è effettivamente conferma di ciò guardate questa è un po' la struttura attuale su eth btc le ultime candele non mi dispiacciono affatto adesso vediamo perché se andiamo a fare una cosa di questo tipo non sarebbe male proprio per continuare questo questo pattern che è in rialzo senza troppa accelerazione senza troppa aggressività e neanche particolarmente interessante per dei trade speculativi secondo me è solo un'osservazione proprio di carattere di trend analysis poi andiamo a vedere luna che anche lei è una assoluta protagonista di questo periodo con le continue accumulazioni di btc ed effettivamente la price action di luna rimane estremamente bullish perché le candele verdi sono quelle dominanti in ampiezza guardate che roba qui abbiamo un'ultima fase laterale definiamola sopra a questo supporto di 0.002 e estensione molto marcata quindi il top sarebbe come sempre continuare un po questo trend che è in essere a partire dall'anno scorso di andare a ritracciare un attimino e recuperare mantenere appunto la linearità del trend non di non farlo accelerare troppo per quanto riguarda luna abbiamo un po di novità aspettate allora vabbè a parte gli acquisti ogni tot di di terra non terraform labs ma lfg che in sostanza acquista dei bitcoin per andare a sostenere il pack di ust ne abbiamo parlato del come ciò dovrebbe avvenire qualche live fa non è cambiato nulla soltanto l'unica cosa cambiata è le quantità di bitcoin nelle tasche di dlfg tra l'altro questo è stato un argomento di discussione perché sapete che luna rompe in due la community è difficile avere una una visione non so come dire super partes c'è chi la ama e chi la odia chi la odia tendenzialmente dice che è un qualcosa di non sostenibile troppo basato su anchor e che cercare di aggiungere bitcoin e altre cripto per sostenere il pack di ust è un modo di di andare a complicare un po quello che è uno schema ponzi appunto secondo chi è contro il terra stesso no il funzionamento proprio di terra perché si basa tutto su ust e sulle sue stable coin chi invece a favore vede una un nuovo standard quasi cioè l'effettivo l'effettiva realizzazione del bitcoin standard inteso come l'avere una stable coin decentralizzata cioè un qualcosa di spendibile l'obiettivo è spenderla utilizzarla che sia sostenuta da riserve di valore altrettanto importanti e decentralizzate come appunto bitcoin oltre a luna che è la sua dinamica di signoraggio che è una cosa a parte invece bitcoin è proprio una reserve currency come se fosse appunto una banca centrale terra immaginatevi che eroga la sua stable coin che è ust la fed eroga il dollaro e una banca centrale detiene magari altre valute euro yen franchi svizzeri eccetera per intervenire sul valore del dollaro nel caso di estrema volatilità e questo è un po' la stessa cosa che avviene su terra con bitcoin e non più solo bitcoin perché da poco aspettate che ve lo trovo eccolo in collaborazione con avalanche faranno delle accumulazioni anche di avax come vedete utilizzeranno una parte di della loro treasury per acquistare avax questo verrà utilizzato vedete per andare a supportare il peg di ust e tra l'altro ci sono in vista anche ulteriori collaborazioni tra le due chain magari sotto forma di incentivi magari per incentivare ancora un po il borro su ancor dando anche avax oltre che anc non lo so potrebbe essere interessante vedere come si sviluppa ma ragazzi due tra le chain più innovative e principalmente sotto osservazione nel periodo collaborare è sicuramente una cosa positiva al di là di tutto perché avalanche con le sue subnet con il insomma la sua struttura un po diversa dal solito non è il solito ethereum killer insomma con terra che è unico come proprio come concetto come concept di di cene di sistema monetario secondo me non può che uscire qualcosa di appunto molto molto interessante oltre a questo aggiornamenti da ancor abbiamo l'introduzione di biatom come collaterale ma ahimè una cosa è certa cioè che il collaterale dato sotto forma delle delle nuove possibilità di coin aggiunte è veramente minimo e non impatta minimamente sul discorso della il dresser quindi io mi immagino che a breve vedremo l'implementazione di il dynamic earn rate quindi quell'aggiornamento che va a variare l'apy e godiamoci questi ultimi questi ultimi 20 per centi che ci dà ecco questo è un po il discorso perché secondo me ci stabilizzeremo poi tra il 10 e il 15 vedremo vedremo come verrà implementato e che parametri verranno soprattutto utilizzati allora dico ancora due o tre cose poi lascio la parola a voi abbiamo innanzitutto sempre rimanendo su terra è stato lanciato aperture finance che è un un protocollo non so se vi ricordate il discorso del delta neutral su mirror la strategia delta neutral che consisteva nel prendere vi ricordate che su mirror si può fare long farm e short farm long farm se si va a detenere una stock m stock quella di mirror appunto che è un sintetico delle stocks su terra non solo stocks ci sono stocks etf materie prime anche cripto e li si mette in pool con usp quindi che ne so m a pl per dirne una usp pool di liquidità 50 50 long farm perché si è long ovviamente su a pl le si detiene 50 50 poi abbiamo lo short farm che invece consiste nel borroare una di queste stocks di questi etf di questi m asset e andarlo in sostanza a prestare quindi io lo detengo l'ho borroato se aumenta di valore io vado a pagare di più perché poi nel mentre io sono short è come se l'avessi venduto diciamo oltre ad averlo borroato proprio per andare a fare questo long farm per andare a dare liquidità alla piattaforma e quindi combinando sapientemente le due posizioni di long farm e short farm si ottiene una esposizione zero a mercato perché se sia sia long che short su un asset di fatto che salga o scenda non ci importa nulla ma non è così immediato e facile perché bisogna intanto costruire le due posizioni fare attenzione sulla posizione short a non farsi liquidare perché comunque noi abbiamo uno short aperto indipendente anche se siamo delta neutral quindi non ci importa l'andamento del prezzo se il prezzo pompa e ci liquida ci importa come perché veniamo liquidati quindi dobbiamo ribilanciarlo ogni tanto tenerlo sotto controllo eccetera eccetera aperture fa tutto questo per noi in sostanza ci dà la pr netto che viene mostrato qua come nelle sue componenti vedete collateral apr dato da anchor perché va a combinare comunque anche si può usare a ust come collaterale short farm reward long farm reward eccetera 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 vedete ci sono tutte le componenti di di apr cioè tutte le rendite derivate da questa strategia sono esattamente elencate lì è una media di 14 giorni quindi può variare se c'è più liquidità tendenzialmente poi si abbassa quindi attenzione e basta altrimenti è possibile vabbè andare direttamente su anchor tramite aperture non cambia assolutamente nulla e credo che sia l'unica qua sotto sì mentre qua gli apr variano fondamentalmente in base alla volatilità della stock allora dovrebbe dico dovrebbe auto ribilanciare quindi lasciarci con un rischio tendenzialmente basso però non si sa mai ovviamente più una stock è volatile più il rischio di liquidazione esiste aperture è una piattaforma nuova quindi occorre fare sempre molta attenzione il fatto che è una piattaforma nuova significa anche maggior rischio di exploit nonostante sia auditata e maggior rischio in generale lo sapete meglio di me come funziona la defi ormai più una piattaforma nuova più i rischi aumentano ma tendenzialmente anche i rendimenti i rendimenti di apercio sono leggermente minori rispetto a quelli di un qualcosa fatto a mano perché a mano si può magari usare un long to value più alto si può cioè poi apercio si prende una piccola fee sul profitto però davvero interessante secondo me perché rende veramente accessibile a tutti una strategia di questo tipo poi in un periodo dove le stocks sono comunque in una fase non di pump diciamo non euforica una strategia di questo tipo diventa ancora più interessante ma vi dirò di più cioè diventa più interessante anche volendo il lo short nudo su sulle stocks no ho sbagliato non volevo vedere la yield reserve che va a zero ma volevo vedere mirror allora vedete che abbiamo degli short farm interessanti ad esempio vabbè shortare apple ragazzi non lo so se è una buona idea però io ve lo dico giusto per na apple mi sa che non è proprio delle migliori da utilizzare però dunque cosa potremmo paypal no paypal ha già dampato abbastanza quindi non so se la shorterei robin hood vediamo hood che c'è gombina beh direi che anche se è abbastanza dampato però il concetto cioè vi spiego il concetto se si vuole fare un edge anche una copertura su una posizione long su una stock che si possiede oppure si è long nasdaq che in questo periodo non è che si è performando granché si è long stocks e si vuole coprire la posizione long ottenendo anche un interessante ipy lo si può fare con mirror cioè io posso short farmare una stock e nel contempo ho la mia posizione spot è una sorta di delta neutral ma dove mirror lo uso solo da una parte anche lì devo stare attento alle liquidazioni o altrimenti se anche non detengo nessuna stock ma sono bearish sullo stock market anziché shortare la stock e basta posso fare short farm così io guadagno dallo short e in più vado a a farmare l'apy on top del guadagno dello short sono tutte operatività molto interessanti non proprio alla portata di tutti però secondo me ripeto sono sono davvero interessanti poi dunque 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 direi che possiamo arrivare a bitcoin e a miami no perché ecco questa era una cosa che vi volevo condividere arthur aies che è l'ex ceo di bitmex che ne ha passate di tutti i colori ma non è questo il topic di oggi ecco non voglio parlare di lui ma di quello che dice molto spesso io vi consiglio di di seguirlo cioè quello quello che i post che scrive su sul blog sono veramente di livello e davvero leggetevene uno o due così capite se possono fare per voi oppure no magari è troppo complicato troppo non lo so vedete voi davvero a me personalmente piacciono molto anche se a volte non concordo con quello che dice leggeteli con spirito critico ma leggeteli sono cioè arricchiscono sono molto lunghi un quarto d'ora 20 minuti sono dei mattonazzi ma alcuni cioè sono veramente a un livello paragonabile di una ricerca di mercato no è anche comunque approfondita la sua visione attuale del mercato è di di essere bearish sul breve e bullish sul lungo termine addirittura lui si aspetta un cripto carnage l'ha chiamato cioè senza mezze misure qua serve acqua bollente non ghiacciata perché per alcuni motivi allora il target dice bitcoin intorno ai 30 mila dollari e tirium ai 2005 avevo letto da qualche parte nel nel suo articolo in sostanza vabbè invasione della russia la situazione molto instabile dal punto di vista geopolitico non solo lì ma anche poi internazionalmente e il la correlazione molto forte con nasdaq io vi volevo cercare un grafico che oggi vi ho condiviso eccolo dovrebbe essere questo questo ve l'avevo condiviso anche su telegram che mostra come la correlazione che schifo mamma mia risoluzione 10 pixel che mostra comunque come la correlazione tra bitcoin e il nasdaq è all'altime i cioè veramente una fase a partire dal 2020 per tutto il 2020 è stato così è molto correlato e questo unito al fatto che il nasdaq vedete come sta andando e in generale lo stock market non è che stia performando molto bene proprio a causa della crisi geopolitica internazionale e unendo le due cose ecco unendo la correlazione e la situazione stocks viene da pensare che bitcoin seguirà l'unico modo che ha per fare un colpo di coda e comportarsi diversamente in caso appunto di recessione sulle stocks è di andare a invertire questa tendenza di correlazione molto alta stiamo a vedere anche questo è un parametro senz'altro da osservare più la correlazione diventa alta più bitcoin rimane io ci do questa interpretazione cioè se scusate se non ho finito la frase ma faccio questo inciso se bitcoin è correlato col nasdaq vuol dire che i fondamentali cioè non vengono minimamente prezzati per quanto mi riguarda viene visto unicamente come hedge come speculazione come investimento non lo so però sicuramente viene visto come un qualcosa in cui parcheggiare liquidità in cui investire cioè solo proprio lato speculativo e lato investimento trascurando tutti i fondamentali mentre qualora si dovesse decorrelare dal nasdaq secondo me è lì che viene evidenziato meglio il suo valore intrinseco è una fase in cui viene più riconosciuto quel quel valore e meno quello speculativo quindi adesso siamo proprio in una fase dove c'è concentrazione sulla speculazione io la vedo così perlomeno poi potrebbe essere una cosa senza senso oppure no ma il reale valore intrinseco di bitcoin cioè è proprio non agli antipodi ma comunque diverso da quello del nasdaq cioè è vero che anche lo stock market è un edge contro l'inflazione cioè quando si stampa moneta quando la liquidità perde di valore si parcheggia nelle stocks e tendenzialmente aumentano questo è un fenomeno che si verifica però fondamentalmente cioè sono veramente due cose perpendicolari il lo stock market e bitcoin quindi non la trovo corretta questa correlazione poi ditemi anche voi cosa ne pensate e quindi il target secondo is è quello di arrivare appunto a 30k però lui dice io nel frattempo ho accumulato un bel po di coin benissimo non era da lui un po di un po di digen mode che sono giù del 75 per cento dei loro altaimai e dice che però non 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 fuggiranno dal crypto carnage quindi subiranno anche loro e probabilmente anche più di bitcoin però dice sono contento lo stesso perché sono bullish sul lungo termine diciamo che la mette giù così quindi secondo questa visione bearish sul breve bullish sul lungo occasione di accumulazione questo è un po la visione di arturais ve la butto lì non è dio sceso in terra non è il santo graal dell'analisi ma è una visione di una persona che di cose ne sa un'ultima cosa lato mio poi lascio la parola a voi perché altrimenti sto facendo un monologo un monologo la correlazione matematica sia vero è matematica ma io mi chiedo il perché della correlazione cioè cos'è che spinge due asset essere correlati il fatto che i capitali ci entrano parallelamente cioè quando entra da una parte entra nell'altra quando escono da una parte esconda all'altra e secondo me non cioè non è giusto per le cripto non è io sinceramente li vedo come due comparti indipendenti il comparto cripto il comparto stocks e questo è un po il discorso bitcoin a risco on beta vero 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 anche questo è assolutamente vero quanto insider trading fa artur è vero è vero ragazzi è assolutamente vero e lui è molto dentro è assolutamente inserito e infatti in passato diciamo che le cose che ha detto a volte si sono verificate a volte è successo ciao luke cipino su cult dao che cos'è cult dao con la scusa del bullish sul lungo termine la gente perde soldi come se non ci fosse un domani ma infatti l'importante è che ci sia una strategia di fondo cioè se io voglio investire in bitcoin me ne devo abbastanza fregare dell'andamento del prezzo non è che devo continuare a comprare adesso che scende comprare di più di più di più no io devo seguire la mia strategia perché tanto io ho un piano di lungo termine avrò strutturato il mio portafoglio in quella maniera per spero di sì perché improvvisare non è mai non è mai una cosa positiva di rest finance opinioni e avevo letto quella cosa quel casino che c'era stato nell'ecosistema waves un bel casino volevo voleva approfondirlo bene perché è successo mentre ero via non ho avuto il tempo di raccogliere tutte le informazioni necessarie però avevo visto che in sostanza usdn ha perso il peg aveva minacciato di liquidare chi shortasse adesso non ho più visto poi com'è andata la com'è finita no questo drama vedremo vedremo allora ultima cosa ultima cosa nel frattempo quel wallet continua a comprare un milioncino al giorno in btc quale wallet quale wallet non non sacci non sacci giuro che non sono io è allora ragazzi miei aspettate che allora per quanto riguarda miami io vi vi volevo far vedere le qua sul canale di bitcoin magazine ci sono molti speech non tutti ma molti e in sostanza il i temi più interessanti secondo me sono stati gli speech un po più istituzionali quindi ad esempio novograt dei senatori dei personaggi comunque che hanno una una rilevanza politica nonché imprenditoriale nel settore finanziario che sono diciamo non hanno una marcia in più ma sono inseriti quindi sanno vedere le cose con un'ottica di chi c'è dentro cioè noi non centriamo niente col mondo istituzionale noi guardiamo da fuori abbiamo la nostra percezione chi ci lavora dentro ogni giorno che ha a che fare con banche e fondi con la sec i regolatori con il governo anche gli enti governativi di di vigilanza finanziaria ovviamente ha un punto di vista che è diverso dal nostro ed è anche probabilmente più maturo quindi tendenzialmente io prediligo ascoltare no queste persone poi magari non sono d'accordo perché sono tutti di parte hanno tutti degli interessi però ascoltarli fa sempre bene quindi il primo io l'apertura che è stato proprio il primissimo speech è stato quello del sindaco di miami che ragazzi è una persona veramente con due palle così lasciatemi dire questo francesismo perché cioè si sta proprio battendo per lui punta anche alla presidenza tra l'altro degli stati uniti e si sta battendo per l'adozione di bitcoin cioè nella sua città la città di miami è incredibile quanto sia facile utilizzare bitcoin cioè anche mi è capitato per dire a un food truck di poter pagare con bitcoin ci sono le infrastrutture in america che permettono di farlo è l'america più avanti molto più avanti dell'europa in questo perché ad esempio hanno cash up hanno sono intermediari è vero però è possibile pagare con bitcoin e quello è un grosso passo avanti e questo ve lo mi viene in mente in parallelo perché comunque si parla di pagamenti in bitcoin il tema del payment with payments with bitcoin è stato uno dei temi più sentiti e di coda appunto lo sviluppo di lightning network perché lightning network è in accelerazione folle e l'adozione proprio di lightning network è più forte e più veloce che mai perché si stanno sviluppando infrastrutture nonché metodi per permettere a chiunque di accettarlo e a tal proposito io vi consiglio di ascoltare questo asoltatelo a prescindere tutto quanto sono 45 minuti ma vedrete che vi volano lo speech di Jack Muller che è il CEO di Strike che è una piattaforma di pagamenti fondamentalmente che utilizza proprio bitcoin e lightning network come infrastruttura che permette di inviare bitcoin ma anche dollari anche euro poi vengono convertiti utilizzando il network di pagamenti bitcoin quindi anziché i classici network bancari o fintech viene utilizzato bitcoin e alla fine c'è volendo la riconversione oppure no e è un metodo molto innovativo perché utilizza appunto la rete bitcoin anziché la rete tradizionale i circuiti di carte di credito i circuiti bancari i bonifici eccetera e pertanto taglia fuori tutta una serie di commissioni e di intermediari guardare per credere viene raccontata molto bene tutta la storia del cioè l'evoluzione aspettate che magari vi riesco a far vedere qualcosa l'evoluzione dei sistemi di pagamento che in realtà è ferma agli anni 50 no è molto interessante anche da un punto di vista proprio storico e poi fa vedere come chiaramente a pro bitcoin lui è interessato a far sì che l'adozione aumenti perché è la sua piattaforma poi viene utilizzata di più ma al di là di tutto io vi consiglio di ascoltarlo proprio perché a parte che ha fatto delle partnership interessantissime con allora vediamo se riusciamo a vederle allora beh innanzitutto no questo non è con shopify aspettate che ve lo trovo ve lo trovo ve lo trovo vabbè partner con shopify quindi shopify potrà integrare i pagamenti in bitcoin e lining network ma il che vuol dire che non è che dovete avere la sua applicazione o un'applicazione centralizzata potete anche pagare faceva l'esempio dal vostro nodo che avete in casa che è ruttato su tor quindi se ci tenete alla privacy avete il vostro full nod di bitcoin su tor e potete mandarvi da lì i bitcoin direttamente al pagamento ed è un pagamento in totale privacy oltre che shopify c'è un'integrazione con aspettate vabbè adesso non lo trovo più perché è molto lungo ma con il maggior produttore di pos ncs di pos americani e in sostanza questo pos direttamente integrerà il pagamento con bitcoin e lining network cioè non so se vi rendete conto della potenziale del potenziale boost in adozione che può dare tutto ciò in america una buona parte un'enorme parte di merchant era interessantissimo eccolo forse qua allora tac ncr che è uno dei top 6 produttori di pos integrerà strike e quindi integrerà i pagamenti in bitcoin e lining network il che vuol dire che tutti questi per dirne alcuni rivenditori cioè di catene retail americane accetteranno bitcoin cioè tramite appunto l'intermediazione del di quel pos che mostrerà un qr code dove si può pagare fa anche vedere proprio un videino qua fa vedere il il tipo che va cioè lui che va lì e va a pagare in bitcoin delle lattine di birra e lattine di coca che fa vedere come funziona e cioè pazzesco vi consiglio davvero di guardarlo questo video perché è molto molto interessante sia come spiegazione dell'evoluzione dei circuiti di pagamento della non evoluzione dei circuiti di pagamento fino ad oggi e anche degli sviluppi nuovi che che ha portato e questo quindi è lato adozione bitcoin e lining network non male poi sempre lui ma anche lato dall'altro lato la senatrice lummis che è una una senatrice del wyoming che è molto attiva in assù è una supporter di bitcoin insomma stanno cercando di proporre dei bill quindi delle proposte di legge finalizzate a spianare un po' la strada per l'adozione quindi a cercare di regolamentarli in modo corretto di far sì che sia sempre più facile utilizzarli e quello che ho percepito cioè dei discorsi che venivano fatti dal sindaco di Miami da lei da questi imprenditori che stanno facendo non cercando di fare stanno facendo cioè siamo veramente all'inizio e ci sono tentativi ancora un po' goffi di riuscire a portare un'adozione del genere ma sta succedendo cioè bisogna prenderne atto e quindi non lo so secondo me il futuro può riservare solo cose positive perché più si va avanti e più abbiamo degli esempi del genere che verranno seguiti e meglio sarà e dicevo lo spianare un po' produzione quindi il cercare di far sì che bitcoin venga utilizzato ci sia la possibilità cioè non obbligare a utilizzarlo ovviamente che ci sia la possibilità di utilizzarlo perché è un vantaggio per tutti ma maggior privacy il poter parcheggiare il proprio capitale in qualcosa in cui si crede di più e poi finché parliamo dell'America che c'è il dollaro che per ora è ancora forte adesso a parte l'ultima l'ultimo spaghi dell'inflazione ma immaginatevi una cosa del genere appunto in in paesi del terzo mondo con una politica monetaria molto inflattiva infatti a tal proposito l'altro speech interessante è stato quello di costui cioè non costui dov'è samson mao è no non è lui ho sbagliato ho sbagliato speech samson mao ha fatto un annuncio dove spiegava in sostanza che sta aiutando alcuni altri paesi del terzo mondo come l'honduras a diciamo integrare bitcoin un po come ha fatto l'el salvador vi ho fatto vedere questo perché in realtà appunto prospera è proprio una una città dell'honduras che sarà la prima una sorta di lugano diventerà la prima ad accettare bitcoin come legal tender a breve già a partire da breve e poi il i suoi altri annunci sono stati di un'isola autonoma del portogallo che è madeira che vuole anche lei utilizzare bitcoin come forma di pagamento ufficiale qui arriviamo anche in europa e poi una senatrice messicana in messico c'è una forte cultura di bitcoin vi lascio a voi i commenti non voglio dire nulla e insomma i pensieri maligni possono correre ma non voglio farli correre e una senatrice messicana avanzerà una proposta di rendere bitcoin a corso legale nel paese quindi iniziano anche lì le prime sicuramente non è che arriva lei lo chiede accade però sono i primi come dire ma lo facciamo ma perché sì perché no se ne discuterà è già qualcosa già meglio che niente quindi questi sono stati un po i principali principali update no da da miami poi se volete andarvi a vedere qualcosa si è parlato molto anche di mining che è un settore che a me personalmente interessa meno però si cioè come gli stati uniti stanno integrando il mining nella loro economia e puntano a farlo sempre di più è molto interessante anche questo perché il mining poi è la base no di bitcoin per ovvi motivi quindi io ragazzi quello la percezione che ho avuto ops è stata quella di fondamentali forti a me mi dispiace sarò di parte ma quando sento cioè parlare le persone che fanno perché noi a volte parliamo per per sentito dire per perché non lo so vediamo le notizie cerchiamo di interpretarle ma cioè li ha parlato veramente persone che sono in prima linea quindi sviluppano fanno fanno leggi e sentire certe cose nuovo grazie super bullish su luna tra l'altro sentitevi e non so se c'è il discorso di nuovo grazie fatemi vedere allora poi ecco ci sono stati dei a me non piacciono ad esempio max keiser quelli a me non piacciono perché sono discorsi un po sono cose un po troppo tossiche già di strappare le banconote fiat is worthless cioè non lo so non è la comunicazione che mi piace quindi quelli quelli per me sono stati un po i low della della dell'evento ma adesso volevo cercare di vedere se c'era il nostro fantastico mike sempre bullish eccolo qua samson mao è lui è lui e dunque vediamo kevin o'leary beh comunque se lo trovo ve lo condivido domani vi faccio un post su telegram con tutti gli speech che secondo me vale la pena sentire tempo di organizzarmi un attimo e lui a lui piace moltissimo il discorso della riserva corrensi bitcoin dietro a terra quindi lui l'ha vista molto bene insomma argomenta anche il la motivazione c'era anche do quon no in realtà dopo quando c'era non c'entrava mo cioè non c'entrava molto bene un certo punto è perché col discorso di 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 beccare con bitcoin ust si è fatto molti amici nella cerchia di bitcoin ma lui no non c'era lui non c'era allora quando sarà disponibile la carta di terra quella cos'è elis intendi non te lo so dire non te lo so dire proprio troppo spread fia gli atm di bitcoin è vero sono un furto c'è poco da dire un furto un 10 per cento di di commissioni tra nascoste non domanda sul futuro cripto internet si è evoluta partendo da un protocollo solido come ip su cui si poggiano layer aggiuntivi come tcp http che hanno creato applicazioni inimmaginabili qualche anno fa non pensi che quindi il futuro sia più orientato alla crescita dei layer 2 magari anche 3 4 di poche chain principali e che tutti gli altri layer 1 finiranno per soccombere guarda io credo che non ci saranno un'infinità di layer 1 2 3 4 perché come dici tu non ha senso ma neanche che ce ne saranno 1 2 3 cioè io credo che la diversità faccia parte del mondo cripto guarda la top 20 top 30 ci sono dentro delle coin che ti chiedi ma perché e cioè e pensa quello che ti chiedi perché i layer 1 hanno il loro perché no ognuno ha la sua community suoi venture capital il suo algoritmo di consenso avalanche al il suo solana al suo e tirium al suo e quindi ci sta che magari uno preferisce sviluppare su uno sull'altro linguaggi di programmazione diversi e così via no e quindi io credo che cioè la diversità faccia veramente parte del gioco e aiuti anche a uno sviluppo migliore perché ci aiuta a capire quali cioè dove va realmente l'adozione uno sviluppa un po dappertutto cioè ognuno con i suoi ripeto e poi questo viene usato questo non lo usa nessuno questo viene usato ancora di più e si capisce no la direzione in cui il l'adozione va perché è guidata poi dalla community no diciamo e quindi io credo che sia una parte veramente fondamentale del tutto e poi quando arriverà i tirium 2.0 sarà interessante vedere la reazione degli altri layer 1 si integreranno si isoleranno verranno un po lasciati in secondo piano io sinceramente credo che si integreranno e non finiranno in secondo piano ma questa è una mia opinione quella cosa certa è che non credo che si continueranno a sviluppare sempre nuovi layer 1 2 3 e così via ci vorrà un qualcosa che li aggreghi perché senza aggregarli non hanno ragione di esistere e ci sarà una diversità non esagerata ma comunque ci sarà questa un po la mia visione ma la cosa di ethereum 2.0 è già prezzata guarda questa è la classica domanda a cui non ti so rispondere io credo che ethereum 2.0 immerge in particolare che è la cosa più immediata non cioè non sia una cosa un evento da vedere spot no sul prezzo ma sia un evento proprio da ragionare a lungo termine cioè non da dire bene c'è quella cosa lì allora il prezzo deve aumentare è semplicemente un qualcosa che influisce sulla tokenomics e sui fondamentali e quindi a lungo termine a lungo lungo termine io sono super bullish su ethereum ragazzi è inutile ethereum 2.0 è tra 2022 e 2024 ma in realtà dipende cosa intendi perché c'è il merge che dovrebbe già essere quest'anno vediamo e poi c'è lo sharding che è il far scalare ethereum quindi andare a andare a abbassare le fee a permettere un maggior throughput e così via questo è un po il discorso si dice che se tutti ritirassero i soldi dal proprio conto in banca l'economia collasserebbe perché non c'è abbastanza liquidità e sì la stessa cosa potrebbe accadere se tutti convertissero le stable in fiat è il cosiddetto bank run è il cosiddetto bank run quindi come nelle nelle defi se da ave tutti prelevassero cioè sarebbe un macello perché a un certo punto non si potrebbe più prelevare perché l'utilizzo la utilization rate andrebbe al 100% tutto ciò che ha depositato e prestato e non puoi più prelevare quello che è accaduto su virus finance no su su neutrino perché c'è su sdn perché usdn ha depegato tutti sono scappati e è rimasta alcuna liquidità era prestata perché qualcuno borroava per shortare e poi è successo un casino perché hanno congelato lì un po di liquidità questo è il discorso allora poi vediamo un attimo allora c'è una domanda che mi sembrava interessante ciao luca bentornato abbiamo visto che ti sei sguaiato tra dubai e maievi poi un'altra cosa bella ragazzi a me piace cioè ci si diverte si fa festa ed è una delle parti belle del del fare community cioè il condividere interesse in comune non vuol dire solo esserli a nerdare davanti al computer anche divertirsi ci sta bisogna fare entrambe le cose e così via dunque abbiamo detto che il grafico non è bellissimo però come ti spieghi luna foundation che continua a comprare pacchi di bitcoin non lo vedono anche loro il grafico e sì ma sai io non credo che loro stiano a fare analisi tecnica cioè loro comprano per accumulare a loro interessa avere la riserva non gli interessa averla comprata a 30 o 40 mila gli interessa averla no questo è un po il discorso non sono trader l'essere bulli su lungo periodo basta per giustificare questi acquisti non dovrebbero metterci un po di strategia speculativa è che il problema che se tu vai a fare della speculazione tu ti assumi dei rischi e quindi se poi sbagli è quello il discorso no è un po come fare un pack ogni mese cioè ogni mese compri bitcoin oppure dire cioè introduci del trading è un po quel discorso lì no e se tu introduci del trading introduce una variabile perché se poi il tuo trade va male se sbagli vai a indurre perdite anziché profitti cioè complichi le cose ecco ci parli della strategia di costruzione del portafoglio che ha raccontato sailor te la dico in poche parole la strategia è buy more bitcoin questo è ciò che ha detto sailor è non sono uno un super fan di sailor perché è eccessivo lui proprio salta su fai comprare bitcoin non vendere mai bitcoin compra più bitcoin è troppo per me è troppo io non non sono di quel partito lì lo ascolto perché è molto più ricco di me ha fatto molte più cose di me quindi io lo ascolto ma non sono del suo partito diciamo non sono così spinto e fai leverage con i tuoi bitcoin per comprare ancora più bitcoin esattamente esattamente un po troppo di gen per i miei gusti è un po troppo sailor bulliscia vita esatto dunque 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 mi sono perso qua è saltato mamma mia mamma mia bainas ha detto che aumenterà la rendita di ust nel suo urn facciamo un giro per vedere come funziona cioè bainas orne abbastanza easy no depositi e basta è finito ma è nello staking se non erro fammi vedere allora bainas earn altro fatto l'errore c'è l'errore o mi sono logato da su bainas dagli stati uniti e mi sono comparsi 80 pop up ma sei negli stati uniti no non puoi spero che non abbiano bannato a vita adesso da bainas avevo attivato la vpn mea culpa allora 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 dov'è 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 no high yield ma garantito che brutta parola da usare nelle cripto allora perché mi ricordo che mi ricordo che c'è così ust 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 eccolo qua look the staking al 25 per cento per 90 giorni flexible è abbastanza pietoso 30 giorni c'è praticamente l'apy di anchor mentre questo dov'è la fregatura dai no non farmi loggare non farmi loggare che non c'ho voglio dunque ci sarà un hard cap al non lo so qualcuno di voi che è loggato a voce di guardarci secondo me c'è un hard cap tipo non puoi più di tot secondo me è quello allora proviamo andare a vedere lock the staking va bene ust minimum lock the 0.01 come non detto come non detto ma secondo me cioè per il 25 per cento non è male se fosse porco cane domani ve lo scillo se sia così scatta la scommessa con doc one su anchor che cosa che c'è un arca a ok massimo 200 ust ok ok tutto torna tutto torna ecco perché è così alto mi sembrava stra per il 25 per cento massimo 200 euro ok no no infatti me lo immaginavo e me lo immaginavo assolutamente allora stargate avevi più ai 22 23 per cento sulle stable poi in due settimane 12 cripto punto com urn avete visto anche i nuovi nuovi ip y di credo punto com urn ha dimezzato da 10 a 6 ancor sempre top platypus bello meglio di ancor e platypus e ti cioè devi loccare un po di ptp cosa che a me non fa impazzire quindi è da vedere dunque aspettate andiamo a vedere stargate così chiudiamo con questo ma il discorso sugli ip y che calano ecco infatti è calato sicuramente anche perché stg è calato e poi tra un po finiscono anche le emissioni e quindi occhio vediamo vedere stg usd eccolo qua il motivo anche nel calo degli ip y babababam meno meno 70 per cento ha fatto più o meno e robe folli comunque che succedono e cioè in pochi giorni pazzesco potrebbe quasi essere un'opportunità interessante di accumulazione per chi crede ovviamente nel suo valore no vi volevo dire che il calo degli ip y a parte il calo del è dovuto a parte al calo del token che viene distribuito perché se il token vale meno l'ip y è più basso ma anche al fatto che in fase di mercato con così pochi volumi con così cioè con questa stagnazione non c'è domanda per il borrow e quindi il l'ip y è proprio basato sul borrow cioè il l'ip y è dato viene viene erogato perché c'è chi è interessato a prendere in prestito quella liquidità e ci paga l'ip y se nessuno è interessato e ci paga meno chiaramente le piattaforme offrono meno e se offrono di più fatevi due domande perché si va incontro a rischi no quindi secrito punto com abbassato dal 9 al 6 e trovate una nuova c'è fai che vi dà il 20 che non è non c'entra con ancor perché ancora è l'unica adesso che da il 20 per i motivi che sappiamo fatevi due domande sulla sostenibilità no attenzione sempre alto ip y vuol dire alto rischio cioè quando con la cfai bisogna fare avere un benchmark no che può essere l'ip y che danno le big come crypto.com block fine exo ledn celsius e vedere cioè utilizzare quello come standard quindi non andare a cercare una nuova cfai che da un ip y più alto perché c'è sotto un rischio attenzione se l'ip y diverge tanto dal benchmark delle big fatevi delle domande amici miei direi che con questo possiamo salutarci perché abbiamo un'ora e passa per oggi e perché usdt e busd danno il 10 per cento non è esagerato 10 per cento ci sta 10 per cento è assolutamente legit secondo me sul il benchmark attualmente a questo cioè tra l'otto e il 10 per cento mi sembra e molti tra l'altro stanno secondo me sfruttando anchor a palla cioè sugli depositi stable loro farmano su anchor mi sa bene la crypto.com funziona negli usa o si l'ho usata veramente tanto si si funziona alla grande alla grande quindi vai vai ragazzi io direi che ci possiamo salutare ci rivediamo mercoledì un po più magari lucidi se possibile e domani volevo fare un video ma vediamo perché non non so se ci riesco dove avrei dovuto già prepararlo vediamo vediamo comunque un po alla volta torniamo sul pezzo ragazzi avete la mia parola io nel frattempo vi faccio un carissimo saluto mi raccomando non cadete nella trappola dello sconforto per via del prezzo focalizzatevi anche su su quello che è lungo termine quello che sta succedendo perché se noi siamo investitori e non stiamo lì a cavalcare i trend e impazzirci dietro dovremmo concentrarci su quello di più che su tutto il resto quindi domani vi linko qualche speech da vedere così vi gaso un po anche a voi vedrete che ne varrà la pena vi faccio un carissimo saluto buona serata e alla prossima